è finalmente nato il governo giallorosso che non so sembra il governo della roma di una squadra di calcio ma io ad altra parte ve l'avevo già detto innanzitutto in un mio ultimo sondaggio che si sarebbe arrivati a un impasto quello che ultimamente si chiama in ciuccio che si sarebbe fatto un rimpasto di governo senza arrivare alle elezioni per fortuna non si è arrivati a un governo tecnico ma si è arrivati a fare questo rimpasto forse questo ribadoni e molte e molti di voi non ci credevano ma il vostro capitan san chan ormai è un capitano navigato sa di cosa sta parlando sa qual è la storia il nostro bene amato paese sa che ogni volta ci impantaniamo nelle stesse storie l'altra parte io già nel nell'anno 2018 avevo fatto una serie di video cercateli nel mio canale dicendo 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 di come si sarebbe arrivati a costituire un governo tecnico oppure un ribaltone un rimpasto come infatti si è fatto per esempio mandiamolo a lui vero che anche tu anche tu lo sapevi che sarebbe andata a finire così è vero che sapevi che Salvini e Di Maio potevano governare insieme è vero che sapevi che il movimento 5 stelle sarebbe andato al governo con il pd è vero che sapevi che anche la lega avrebbe voluto governare con il pd ecco quindi se anche un pazzo sapeva queste cose le sapeva chiunque vi ricordate poi che dai tempi di beppe grillo si diceva perché poi per un certo tempo è stato zitto per fortuna che non si sarebbe mai andati al governo con il pd e anche Salvini diceva nessun accordo con il pd e che è successo poi che ha detto le due forze politiche lea m5 e se voglio governare con il pd poi mi ricordo mi ricordo che ci fu una prima fase nel movimento 5 stelle che ci fu una prima fase nel movimento 5 stelle in cui prendevano persone dalla strada quasi e le candidavano e le portavano in giro a fare dei seminari di formazione quasi professionale con dei pullman e poi hanno iniziato a promettere persone c'è stata un'espulsione in massa dei grillini e alla fine hanno preso tutti i pentastellati dalla vecchia politica la raggi per esempio ha studiato nel gabinetto di previti diciamo nel buffet di avvocati di previti io sto controllando perché l'applicazione gratuita da cinque minuti al massimo allora che ne è stato alla fine di tutte le promesse dei pentastellati dei grillini e di salvini che nessuno di loro avrebbe mai governato con il pd e adesso tutti se contendono al pd e alla fine ci sarà un governo che gli italiani non hanno eletto e io scommetto che entro l'anno prima di un anno o andremo alle elezioni ma soprattutto ci sarà un governo tecnico o ci sarà un altro rimpasto vi saluto e dalla prossima comunque avete visto si sarebbe fatto un rimpasto guardatemi ai video del 2018 grazie a tutti